Ho fatto un piccolo acquisto da Alta che vendevano queste bottiglie, queste piccoline spray perché devo spruzzare il mio bonsai. Mi piace dato che fa caldo, è una pianta tropicale, mi piace che mi spruzzi un po' d'acqua sulle foglie che sto curando. Poi ho preso quella come 99 centesimi, poi ho preso questa bottiglia spray che puoi metterci tante cose dentro. Lo puoi usare per spruzzare, ci metti acqua minerale dentro e ci spruzzi il viso. Fa una bella mist, è abbastanza delicato, però lo puoi usare per tante cose. Questo perché mi fa comodo. Ho già messo un po' d'acqua e ho spruzzato il viso. Potete vedere com'è? È così. L'ho provata con l'acqua. Ok, poi ho preso due cose. Ho preso questa, sembra di mia amica, il Pill Pouches. Quel contenitore che io avevo comprato da Sephora non è andato a buon fine. Non è un buon prodotto, lo boccio. Ho preso da mia amica. Mia amica è il brand che io compro sempre queste buste, che sono indistruttibili. E questo è il brand mia amica. Ora vi faccio vedere quello che c'è, ma questo non mi ricordo quanto costa, costano poco questo brand. Ho anche la bottiglia, era di mia amica. Sì, mia amica fa tutte queste cose per viaggiare, trasportare. Ora le faccio vedere. Questi sono i Reusable Pill Pouches. Vediamo come sono. Questo ti danno sette Reusable. Questo è carino e ti porti, mi piace perché è molto, quei contenitori occupano molto spazio. Questo è il pouch. E dentro c'è, questo è troppo cute. C'è una per tutti i giorni, no? C'è Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. Però io ne userò, sono, non li userò per quel scopo, perché io non, i miei medicinali li prendo quando ne ho, a parte uno, ma ne prendo, capito? E questo è carino perché ci sta, si chiude bene qui. Adoro. Forse questo, questo grande lo userò per un'altra cosa e quindi posso mettere i miei farmaci così mi piace, ci piace. Poi ho poco spazio. Quindi questo è di mia amica. Reusable Pill Pouches. Poi ho preso un altro di questi. Questa volta ti omaggiavano un'altra cosa. Ti danno, questi sono, l'altra volta che li ho comprati non mi davano, hanno dato una cosa in più questa volta. Carino. Allora, apriamo tutto. Questo è Resealable Bags. Ci danno 40 borse di varie misure. Ci danno. Ci omaggiavano anche, questi mi fanno comodo per altre cose. Vi faccio vedere. Ci danno questo per le pillole. Per i medicinali, no? Sono comode, però le puoi usare anche per altre cose. Questo dice AMPM. Carino. Questo era tutto incluso, ma io non so neanche che erano incluse questi. Comunque mi fanno comodo per altre cose. Questi sono buoni per viaggiare, per altre cose, non necessariamente per farmaci. Poi questo è quello che ho comprato. Perché mi piace fare, quando faccio i regalini, quanti te li danno di questi? 2, 4, 6, 8, tirano 10. Ok. Questo brand favoloso. Vi dico che durano, a parte che sai, nelle borse si ingrinziscono, si fanno vecchiotte, però il disegno rimane sempre. Sono veramente belle. Guardate questo. lo zip qui. È il migliore brand, questo brand. Se lo trovate, fa le migliori. Sul loro sito ovviamente c'è molta scelta. Questi li prendo da alta. E poi, questi sono bellissimi. Sono 10. Sono 10 di questi. Guardate come è bella questa cosa disegno qui. Veramente molto bello. Guardate. È solo da una parte. Questa è trasparente da qui. Questa. Troppo carini, vero? Se vi vedete negli Stati Uniti, questo è il brand. C'è su Walter. Però mia amica ha il suo sito. Penso potete comprare direttamente da loro e hanno molte opzioni di cose per viaggiare. Questa è bellissima. Io le uso in borsa. Ho notato che si stavano una vita un po' vecchiotte, però non le butto via. Solo volevo un po' aggiornare le mie buste che uso per la borsa. Questa è bellissima. Guardate questo. Ok. Questo le compro da anni. Come sapete, ogni anno ti ne compro altre. Però le uso anche per fare regalini, no? Metto il regalino qua dentro, poi faccio una cosa carina. Questo fa molto comodo. Questo non sapevo manco che me lo davano, però questi sono per pillole. Però ci sono tanti. Posso usare questi per tante cose, no? Penso che ti posso anche mettere della crema per viaggiare della crema mia qua dentro. Posso fare tante cose. Sono comode. E questo Monday, Tuesday. Questo è comodo, però mi piace molto l'astuccino. Diciamo un po' bimba minchia, no? Ci sono tutte le pillole qui, vedete? Sono veramente poco. Reusable peel pouches. Ok, tutto qui. Questa mi piace da matti. Questa si apre. Non è aerosol, perché ci vuole, capito? Però ti dà un bel mist, ti dà un bel mist in viso. Però poi qua dentro puoi mettere miscele. Questo pattern è un brand che fa proprio i capelli. Quindi puoi fare, ti puoi fare le tue miscele per i capelli, no? E spruzzartelo. O la mattina ti puoi dare, riavviare un po' i tuoi ricci. E qua dentro ci puoi mettere, vengono prodotti che puoi mettere qui. Io lo uso per acqua, però. Pattern è un brand creato dalla figlia di Diana Ross. è bellissima. E ho vari prodotti dei loro capelli. Molto buono. Ok, tutto qui. Vediamo l'altra bottiglia. Ora la riempio di donata spuzzatina la mia pianta. Ok, ciao. 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 Grazie a tutti.